Tutti i titoli esplosivi, quelli di Vittorio, partiamo meglio soli che accontentarsi della prima ragazza. Io ti dico Vittorio, non posso taggarli perché sennò succede un casino, però io conosco veramente tantissime persone insieme a ragazzi o ragazze solo perché altrimenti rimarrebbero da sole e sentirebbero questo peso della solitudine, del vivere in un mondo e essere autosufficienti. Per carità non diciamo assolutamente nomi perché altrimenti poi le persone se la prendono e capiscono che magari sono in una situazione assolutamente, dai diciamola così come schifosa, proprio schifosa. Quindi, come dire, fare questo tipo di cambio di mentalità, perché anche qui è una questione di mentalità, non è per tutti. O meglio, non tutti sono disposti a farlo perché ci espone a una dinamica di miglioramento personale. Miglioramento personale perché poi sappiamo benissimo, nelle coaching che facciamo, noi andiamo a migliorare quella che è la situazione sentimentale, però nel momento in cui cambiamo come persona, questo miglioramento noi ce lo ritroviamo in tutte le sfere della nostra vita. Quindi il miglioramento personale purtroppo non è per tutti, però a questo punto è meglio soli che appunto accontentarsi perché ricevere le attenzioni dalla prima ragazza che ci capita, sì, va bene, però fondamentalmente ci fa sedere sulla sedia e non andiamo avanti, non andiamo avanti. Però io vorrei aprire una parentesi, cioè relativa al fatto che, ok, meglio soli con abilità però, cioè perché molti utilizzeranno adesso questo video come ulteriore scusante per dire, ah beh sì, io sto da solo, vedete, io perché, non è perché io non voglio, se voglio prendo quello che, no, no, no. Cioè in realtà è meglio soli con abilità e quindi aspettare veramente quella giusta. E quindi quando arriva quella giusta hai l'abilità per conquistarla quella giusta. Assolutamente, hai detto una cosa molto importante perché magari alcune persone, ok, non si vogliono mettere in gioco perché appunto questa cosa prevede sforzo, però anche rassegnarsi completamente vuol dire fondamentalmente anche proprio morire come persona. Quindi dobbiamo cercare di attuare tutta una serie di abitudini, appunto di attitudini mentali che ci mettono in una condizione diversa. Il primo è sicuramente metterci in una dinamica di mentalità di abbondanza, che è fondamentale. Io posso avere tutta una serie di altre occasioni se mi metto comunque in gioco, no? Però quanto incide il voler far sesso con una ragazza e appunto il rinunciare a sesso perché magari pensi che lei poi voglia una relazione e quindi dire ok, no, me ne frega, guarda, preferisco aspettare magari quella giusta tra uno, due giorni, tre giorni, dieci giorni, un mese. Cioè quanto è difficile per un uomo medio poi rinunciare a tutto questo? Sicuramente ci sono dei bisogni, chiamiamoli pure fisiologici, perché comunque si parla di quello, quindi sicuramente quello va a incidere tanto, però se questo poi ti mette nella condizione di non rispettare te stesso perché appunto rimani lì, quanto davvero ti ha aiutato andare a soddisfare quel bisogno, no? È quello che intendi, giusto? Fermarsi con una ragazza e poi magari... Ci siamo, ci siamo. Io direi che potremmo addentrarci in maniera molto più invasiva, però cioè il concetto è questo. In quante persone che hai sentito magari si sono fermate, si sono fidanzate, perché appunto poi magari avevano paura anche di trovarne un'altra? Di non trovarne un'altra poi? Guarda, mi ricordo nello specifico un ragazzo, non facciamo i nomi perché è meglio non farli, usciva da una relazione molto lunga. Abbiamo fatto un percorso assieme nel momento in cui ha visto che c'era veramente tantissima abbondanza perché il ragazzo fortunatamente si è messo nella condizione di dire, ok, fai di me tutto quello che vuoi perché io voglio migliorare te stesso. Ha avuto tutta una serie di occasioni, si è trovata la prima... che in qualche modo lo stuzzicava di più, proprio come interesse. È rimasto lì con quella. La ragazza però non faceva per lui, perché lei era troppo, troppo strong come persona. Lui invece è un tipo un po' più tranquillo, un po' più pacato, che va benissimo, cioè non è che dobbiamo essere tutti strong. E infatti io gli ho detto, guarda, non ti fermare qua, perché questa roba qui, sì, magari in questo momento ti può piacere, però non ti fa progredire come persona. Eh no, ma mi piace di qua, di là, dai, comunque adesso mi sento tranquillo, eccetera, eccetera. Tempo un mese, torna. Eh, Vittorio, c'avevi ragione, dai, adesso come sistemo questa ragazza? Ascolta, non dobbiamo pissarci su questa, dobbiamo continuare. Infatti poi abbiamo continuato nel nostro percorso, anche lì si è trovato comunque un'altra ragazza, insomma, ha trovato un certo tipo di complicità, quest'ultima è un po' più compatibile con lui, è contento così, va bene così, poi bisogna capire quanto effettivamente noi vogliamo spingerci per migliorare, progredire e quant'altro. Le scelte, ovviamente, sono le nostre, nella nostra vita. Grazie Vittorio. Ciao, ciao a tutti, ciao Steve.